Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, mattina, non è importanza, e questo coso di Renz qua che sta facendo le riforme per il lavoro, tutti quanti parlano del Jobsat, Jobset, Jobat, non è Giobatta, no, ci dice Jobs Act, Jobs Act, ACCO per il lavoro, per i lavori, in inglese, Jobs Act, allora mi scopio fra A e, Act, Jobs Act, no Giobatta, ripeti, Jobs Act, no Giobatti, no Giobatta, no Giobatta, Jobs Act, all right, basta, Jobs Act, ciao!